I giorni di attesa, una trattativa difficile, l'ansia da calcio mercato dei tifosi, ma alla fine eccolo qua. Giuseppe Fella è un nuovo giocatore del Palermo. Arrivato a San Gregorio Magno, sede del ritiro rosa, ha incontrato il presidente Mirri ed è già a disposizione di Mr. Filippi. Il classe 1993 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla neopromossa in assa lernitana. Seconda punta, trequartista alla sinistra e destra, mezzala e quarto di centrocampo. Nella lunga carriera, iniziata nelle giovanili della Cavese, Peppe Fella ha giocato ovunque dalla metà campo in su, prediligendo sempre le zolle calpestate da chi fa gol. Lui, che della Serie C è ormai un veterano con 160 presenze di gol in questa categoria, ne ha fatti ben 44, a cui vanno aggiunti 14 assist. Mica male. Nella scorsa stagione, con la maglia del Lavellino, nove realizzazioni, una anche al Palermo ad inizio campionato. Insomma, per Giacomo Filippi un profilo di qualità ed esperienza al servizio di un attacco che adesso aspetta soltanto la punta di peso. Citofonare, Cianci.